Cercate anzitutto il Regno di Dio. 3 febbraio 1977. Figli di Letti, sia pace a voi. Sono Gesù di Nazareth, figlio di Dio e di Maria e vostro fratello. Sono qui per darvi quei preziosi insegnamenti che vi aiutino a vivere, e vi rendano più facile il cammino della virtù. Io ho parole di vita e quanto vi do è tutto in vista di quella felicità eterna che dovrà segnare la conclusione del vostro cammino. Quando parlai ai miei discepoli dell'Eucaristia, dicendo loro che il mio corpo era veramente cibo ed il mio sangue vera bevanda, essi non compresero subito ciò che intendevo. Voi che mi conoscete, ora lo potete capire e sapete anche che non ve ne ho fatto dono solo in quel giovedì che precedette la mia passione, ma che ve li dono ogni giorno, ogni volta che lo volete. Vi invito dunque a fare della mia parola il cibo spirituale dell'anima vostra e a nutrirvi di me perché abbiate forza sufficiente per combattere il male, ottenendo il pegno della vita eterna. Abbiate fiducia in me, figli, poiché il mio amore per voi non conosce limiti, è inesauribile. Fidatevi di me anche quando la fede vi chiede un agire contrario all'agire del mondo. Conosco il valore delle anime e se vi ho detto che neppure un capello del vostro capo cade senza che il padre lo sappia, a maggior ragione vi dico che mi premono le vostre anime e le voglio salve. Ma voi siete preoccupati anche per le cose umane ed io vedo le vostre necessità. Per questo e perché posso provvedere a tutto, vi dico. Cercate anzitutto il regno di Dio e tutto il resto vi sarà dato in sovrappiù. Sì, figli, se voi vi preoccupate di ciò che mi sta a cuore, io intervengo a soddisfare i vostri bisogni. Quanto si vivrebbe meglio, se si avesse più fede? C'è un padre onnipotente che dirige il mondo, perché ostinarsi a voler far da sé e non ricorrere con umiltà e fiducia a lui? Cercare il regno di Dio e anzitutto evitare il male, fuggire il peccato e questo comporta una continua rinuncia alle proprie inclinazioni e una continua correzione dei propri difetti. Ma non vi pare che ne valga la pena, sapendo che in compenso la pace, la gioia, la grazia, fanno dell'anima il paradiso di Dio? Là dove è Dio, è amore e serenità. Se il regno di Dio entra nelle famiglie, io entro come sovrano e voi siete i miei amici. Armonia e carità allora non vengono meno e la vostra convivenza con me non è difficile. Figli, guardate il mondo. Non vedete come ovunque si vive male? Eppure la grande famiglia umana, dovrebbe essere tutta tesa nella lode a colui che l'ha creata, per riversare su di essa le ricchezze infinite d'amore che possedeva. Fidatevi di Dio, figli, e questa fiducia non venga mai meno, neanche quando, a causa del peccato e della ribellione a Dio, avvengono nel mondo cattiverie e malvagità. Dio non cessa di sovraintendere a questa grande famiglia. E Dio non cesso mai di fornire a tutte le creature, quei beni di grazia ed amore di cui il mio cuore è la sorgente. Occorre dar prova di fede anche quando le vostre preghiere non sono subito esaudite. Non angustiatevi e continuate a pregare. Molte sono le vie per le quali Dio può giungere all'uomo.